Oggi insieme a INA e le ACI abbiamo organizzato questa manifestazione, questo evento dal titolo La Guida Giusta. Alle mie spalle c'è il Pullman Azzurro che è una vera e propria aula multimediale itinerante dove i ragazzi possono fare delle simulazioni di guida e conoscere quelli che sono i pericoli portati alla guida portati dal non rispetto delle regole. Perché il rispetto delle regole è il tema centrale su cui si è basato questo convegno che insieme a INA e le ACI abbiamo portato avanti illustrando quelli che sono i pericoli che possono derivare da una guida dove non vengono rispettate le regole stabilite dal codice della strada ma anche dal buon senso. Il fulcro di oggi, a parte gli interventi che si sono susseguiti, è stata la visione di un video dove appunto ai ragazzi delle scuole superiori sono stati indicati quelli che sono i pericoli visti non soltanto dal punto di vista giuridico della polizia stradale ma anche dal punto di vista proprio della salute in primis dei conducenti e quindi soprattutto dei giovani che sono coloro che saranno poi sulle nostre strade come conducenti nei prossimi anni.